8 e mezza di mattina colazione cappuccino ambulatorio 8 e mezza non mi lavo trattamento sanitario obbligatorio 9 e mezza in corsia il referto parla di ciclotimia 9 e mezza all'ospedale sta iniziando la mia fase maniacale 9 e mezza di mattina colazione cappuccino ambulatorio che cosa farete adesso un altro inutile flemo a litio per il vostro depresso mi sento parlare non so più che cosa aspettarmi ora siete soltanto ostacoli che non ho distrutto ancora Ma che bella mattinata, depressione picolare strutturata Redicenza ai trattamenti, nella fase depressiva i turbamenti Grazie a tutti Vi guardo in faccia e so già che cosa farete adesso Un altro inutile flemo al litio per il vostro depresso Mi sento parlare e non so più che cosa aspettarmi ora Siete soltanto ostacoli che non ho distrutto ancora Per quest'anno non cambiare anche tu la depressione picolare Anche tu Anche tu Anche tu Anche tu